Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Merry the Monster, un gioco da tavolo della Petersen Games che ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione in un gioco veramente veloce, divertente, alla portata di tutti, che non si prende mai troppo seriamente ed è un titolo, secondo me, che farà divertire ovunque lo mettiate al tavolo. È il classico gioco dove ci si diverte sempre e sicuramente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Merry the Monster della Petersen Games, gioco da 3 a 5 giocatori, quindi qui c'è forse l'unico lato negativo è che c'è un minimo di 3 giocatori, però per chi ha delle meccaniche abbastanza precise, è un gioco competitivo che porta di solito via una quarantina, cinquantina di minuti, proprio esagerando senza conoscere le regole o comunque ai primi giri e alle prime partite, ed è un gioco dove abbiamo una mappa e c'è un mostro che farà di tutto per distruggerla, ma non per cattiveria, perché questo mostro sta cercando una mostra, scusate nel senso, sta cercando un mostro femmina, una compagna da sposare, e non trovandola è arrabbiato da morire e distrugge tutte quante le cose, anche perché è un mostro particolarmente brutto, tipo un ciclope, però con un solo braccio, una sola gamba, quindi è ancora più un mostro, è brutto da morire, e la storia racconta che c'è questo stregone azzurro che ha creato un fantoccio di un mostro con le forme appunto femminili di una donna per farcelo un attimino calmare, mettiamolo così a avvicinare, e evitare che distrugga tutto quanto il regno. E come meccanica, vedete, c'è come idea più che altro di fondo, è molto carina, perché voi dovete trovare la formula giusta per farlo innamorare di questo fantoccio, e a quel punto lui si prenderà il fantoccio, andrà via e la situazione sarà risolta. Insomma, è il classico gioco, veramente come storia e come trama low level, però nel senso alla portata di tutti più che altro, che ti strappa un sorriso. È un gioco competitivo, ma che non si prende mai troppo seriamente. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, molto carina, vedete il disegno che c'è sopra, che è il mostro, quello con una gamba, un braccio solo, è il mostro che vi verrà a distruggere tutte quante le terre, sotto i contadini e villici che si devono difendere, e il fantoccio del mostro femmina, che è stato creato dal mago per attirarlo. Vedete, lo dovete semplicemente far innamorare, e da questo poi anche il titolo del gioco. Apriamo. Manuale del gioco, il rulebook. Il gioco per ora è solo in inglese, e non penso nemmeno verrà mai tradotto in italiano, però mai direi mai, di solito i giochi della Petersen difficilmente vengono tradotti in italiano. E questo qui è tutto quanto il contenuto che c'è all'interno, le varie casette, che poi si possono mettere una sopra l'altra per fare le torri, il mostro, e abbiamo le regole spiegate brillantemente, poi veramente sono due regole, vedete il movimento del mostro, cose del genere, come si usano le carte, cioè già finita, siamo già ai credits, veramente velocissimo. Poi abbiamo il tabellone dei punti, che quando dovete, ovviamente che arriva a 45 ha vinto la partita, e quando arrivate nei vari steppe rossi viene sbloccato qualcosa qui accanto, un potenziamento, quindi lì basta leggere cosa c'è sopra, è molto veloce. Segnapunti per le varie fazioni colorate, e poi qua sotto abbiamo la mappa di gioco, che è tutto qui il tabellone, è veramente piccolino, e vedete, nell'orlo esterno, sembra guerre stellari, si guadagna un punto mettendo le strutture. In questo un pochino più interno se ne guadagnano due, tre, e chi prende quella centrale, che è quella più ambita fondamentalmente, si prende cinque punti. Quindi conta veramente tantissimo tenerci la struttura e mantenerla per guadagnarli ogni turno. Poi abbiamo la miniatura del mostro, che per quanto unica miniatura all'interno del gioco, e anche secondo me carina, è fatta veramente bene, e poi tutti quanti i mazzi di carte qua giù, che sono le carte stomp del mostro, che potete usare per distruggere le strutture avversarie, e poi ovviamente tutte quante le carte per le varie azioni che si possono fare di costruzione, e poi questi in plasticona bella dura sono divisi per i colori dei giocatori e delle fazioni, le strutture da costruire. Vi faccio vedere un po' come funziona. Lo svolgimento del gioco è semplicissimo. Abbiamo la mappa, divisa ovviamente in esagoni, e abbiamo delle carte. Con queste carte abbiamo la possibilità di andare a costruire strutture, quindi andare a mettere casette che poi possono arrivare a diventare fino a tre piani, delle vere e proprie torri, classica casetta, castellino e poi torre un pochino più alta, e possiamo decidere di mettere queste strutture in vari punti, per prendere più punti possibili perché poi è una corsa al punteggio, quindi in vari esagoni, se l'esagono dice due, e mettendoci la struttura hai preso due punti, che sia una struttura di livello 1, una torre, prendi sempre gli stessi punti. La differenza è che con le carte tue e degli altri giocatori, quindi la mano di carte che avete, è possibile muovere questo mostro, e questo mostro si muove sempre in linea retta, può andare in diagonale e cose del genere, però segue sempre un'unica direzione per ogni movimento senza poter cambiare percorso. E facendola andare contro la struttura di un nemico, gliel'ha andata a distruggere di un avversario. Se la struttura è un edificio normale, viene distrutto. Se è un edificio di livello 2, 3, torri del genere, invece, ferma la carica del mostro, però comunque perdi un livello. Quindi il discorso di andare a costruire strutture più alte è per il fatto che possano assorbire e reggere più colpi del mostro. Banale l'idea, comunque, ve lo potete già raffigurare sul campo, di andare a muovere questa creatura, che è mossa dalle carte degli altri giocatori, e andrà fermato, appunto, con queste strutture, che dovranno sì farvi guadagnare punto, però non dovranno nemmeno essere distrutte, perché se vi distruggono il punto che avete conquistato, quei punti lì, non è che una volta accumulati ce l'avete fino a fine partita, le avete completamente persi. Quindi è il caso di creare non tante strutture che possono essere distrutte con un colpo, ma magari strutture che possono reggere più la carica, appunto, di questo mostro. Cariche particolari, rinvigorite con carte sopra, che possono consentirli di fare anche più di un danno a movimento a turno. Insomma, bene o male, regolamente è tutto qui, ed il gioco è veramente molto, molto, molto semplice da farci una partita velocissima. In conclusione, come detto, questo Merry the Monster è un gioco alla portata di tutti, ed è il classico titolo veramente per farci una serata, per farci una partita, ma anche per farci giocare più piccoli, perché poi alla fin fine le mosse che si possono fare sono limitate, costruire o muovere la creatura, muovere il mostro. Quindi non c'è nemmeno da fare più di tanto, e poi ve l'ho detto, lo scopo è farlo innamorare di questo fantoccio, così che lui si calmi e vada via e la maledizione si è spezzata. E poi ovviamente è un gioco competitivo, quindi vince quello che riesce a fare più punti. Gioco alla portata di tutti, io ringrazio la Peterson Games per avermi offerto questa copia per la recensione, e secondo me è consigliatissimo per mettere un pochino di pepe, un pochino di sfida al tavolo, però quella sfida competitiva, come dico sempre, senza malizie, senza magari anche puntina di malsanità, oppure con la competizione un po' troppo spinta, nel senso devo vincere per forza. Questo è un gioco dove sì, mi riavvincere, però è talmente divertente e fa sorridere che anche perdendo basta che hai fatto una bella partita e l'ammortizzi anche meglio. Ecco, mettiamola così. Consigliatissimo, se lo volete acquistare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista, ma è finito, o proprio non c'è nel catalogo, mandate un messaggio privato al supporto, a Corrado e al proprietario della Gioco Libreria Semola facendogli presente che arrivate dal mio canale e vorreste questo titolo. Lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre lo sconto, come vedete a nota, Coridan 7 per avere uno sconto e un discount pari al 7%. Per spese complessive superiori ai 79€ non si pagano nemmeno le spese postali in tutta Europa e va arriva a casa in 48 ore. Quindi comunque contattatelo che ci sia, che sia finito o che non ci sia. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate e secondo me è veramente molto molto interessante. Poi la grafica è veramente carina. Ciao ragazzi, alla prossima!